Si spalanca la porta della chiesa ed entra un'amica di famiglia, considerata però strega. La funzione di chi va fuori dalle righe è una funzione importante. Federico Tavanni è stato questo, cioè mi ha aiutato e ha aiutato molti con la sua diversità. Presso il tribunale ecclesiastico del Santo Ufficio di Aquileia si presenta spontaneamente all'inquisitore un inviato della comunità di Andreis. Quando c'è qualcosa che normalmente non è spiegabile, tu devi trovare una spiegazione. La strega va bene. Grazie. 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 Grazie.